Giusto Aspetta, sento Telefono Guarda, eh Telefono Casa Per cui siamo queste? Fai la perquisa Ho sentito una Accogli miscela Ricarica Vai, vai col motorino Vediamo un attimo se ci sono altre miscele E una c'è qui subito Dietro Dietro, abbiamo una cosa di Anche se muori adesso fregatene L'hambra Rompi un vetro e passa fuori Hai presente i vetri K Di coso? Di Aliens 2 Di Alien 2 Scontro finale, ecco Più o meno sono gli stessi Hai bisogno di un Pulse Rifle Per riuscire a farli fuori Che non mi ricordo come su questi vetri Oh, guarda quanta roba c'è qua Quella è tutta miscela Una volta qui era tutta miscela Poi Ricarica Vai, carica, tutto Guarda, non sta vinta, dove ho evitato Bisogna andare nel Nel pertugio Non lì, ma a destra Dove c'è la pertugio Fai prima a bucare il pavimento Eh, carica Dobbiamo andare lì Questo qui è bloccato Non ci fai Il pertugio è destra Amor mio Ah Non sentivi che si apriva Quando Fatto sei tesoro Fatto sei tesoro Mmm È una brutta sensazione Dio Mappa È questa la Cosa Devi andare lì a sinistra Vedi lì dove c'è quel Terminal C'è ancora il pavimento Ma era l'area dove eravamo inizio No Tessera d'accesso Ripiense Chi era tessera d'accesso Devo cercare Sangue Ricarica intanto Allora, innanzitutto dobbiamo Far partire questo affare qua Chissà come mai Generatore è in funzione Che cazzo No, no, è già in funzione Generatore Quindi va Secondo me dobbiamo seguire La traccia L'evacuazione È chietato di entrare Nella stazione A meno che non sia stato Ordinato dal coordinatore D'emergenza Francamente io Nel gameplay Non l'ho ancora vista Questa cosa Non possiamo vedere Il gameplay Il gameplay corrosivo Il sangue corrosivo Perché non possiamo ferirlo Semplice Ah, anche quando lo incendiamo Gli spagniamo Cioè dovrebbe Cioè dovrebbe cacciare Ancora il sangue Prova a seguire La traccia La traccia di sangue L'ambesta Secondo me ci porta da No, ci porta dalla scheda E poi dopo anche da Maribel Ecco La traccia di sangue Sei stato impregnato Di un uovo di alien Però te la dovrebbero far vedere Che dopo Potevano farlo No, però non è gori Come gioco Però se è un altro Adesso sappiamo che c'è Però questo qua Lo posso sparare Non si può sparare Si, 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 si 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 Carica Hai solo due proiettili Solo due proiettili No, no, è qui Ah, ecco Non voglio giocare Alla lettura russa Clic 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 Non lo sto facendo Ci sono due miscele sulla sinistra Eh, c'era ancora una cosa Una qui Sinistra, sinistra, sinistra Lì E poi ci sono due miscele là in fronte Probabilmente Tutti gli alieni nel gioco Hanno il sangue arcido e corrosivo Il problema è che Eh, se tu non puoi ferirlo Perché è programmato Per non essere ferito Non puoi fargli niente Ma manco Verificato Si, si È una caratteristica Della specie Già, toccai Ma viene lì Dalle scatole Vai a destra Avanzo un attimo Chiama Lancia fiamma Subito E ricarica Evattuare l'attazione Questa non è un'esercitazione Ricarica lo sai a due Con il lanciatore No, perché è acido Sì, però non corrode Questo è un errore di Ha un effetto grafico Diciamo così Sì No, non c'è niente Prova a guardare lì sopra cosa c'è Sensori, pezzi di metallo Sì Non l'abbiamo ancora beccato Nei condotti Dall'inizio del giorno Non l'abbiamo mai beccato Nei condotti Speriamo che non di non beccarlo mai Tra le altre cose Questa curiosità Se la vorrei No, grazie Ma proprio manco boot up Ricarica Dopo l'evacuazione È di stato rientrare Nella stazione A meno che non sia stato ordinato Dal coordinatore d'emergenza Che cazzo è successo? Sta arrivando Lancia fiamme Dove dobbiamo andare? Vedo una roba che blippa sul sud A destra Oddio Dobbiamo andare dall'altra parte Perché c'è il condotto Che va giù di qua Ok, prendi il telefono E andiamoci E c'è un alien libero Hai vista che dovevo? No, io lo senti Era bava quella No No, no Hai sentito È qui È lì dietro Sulla destra Emergenza Raggiungere il punto di evacuazione stabilito E attendere il quartiano android di emergenza Si ragioneva troppo strano Che ti dessero così tante bombole di miscele Caffa cazzo Miralo fuori E' andato giù nello stesso punto Ok, non so dove è andato Ma va bene Dobbiamo uscire di qui Lambert Lui è là Sulla destra Ed è all'interno della stanza adesso Molta tensione Pianino Pianino È vietato rientrare nella stazione A meno che non si è stato coordinato dal frontiato di emergenza Ciao Elena Come stai? Niente, Overwatch stasera Stasera c'era Almeno ho visto che c'era la Blitzcon Sì, c'è la Blitzcon Che hanno presentato un nuovo personaggio di Overwatch Sombra È un FPS Mezzo FPS Mezzo MOBA Mezzo E' chi? Il presente è League of Legends Ecco Cioè nel senso che Scegli l'eroe È un FPS Ha delle abilità specifiche Lamberto Dobbiamo andare dall'altra parte Qui Possiamo andare nella ricerca Per vedere se c'è qualcosa di interessante Io porto Io porto Non me l'aspettavo Madonna Mi ha fatto venire un cotto Guarda che Spara spara Eh sì Mi divora eh La ciccina qua Sì sì Mi sto preparando la pappa Giochi nuovi per la Blitzcon Questo è interessante Non so se hanno Se hanno fatto qualcosa di nuovo Ma non credo Portello bloccato Hanno detto che faranno il nuovo Diablo No hanno detto che non lo faranno proprio Hanno fatto una Hanno fatto una pezza di Diablo 2 Addirittura due mesi fa Tre mesi fa Sì Stasera voglio spaccare i culi con un Widowmaker No sti cosi qua ti fanno venire un colpo Ecco qua Strono 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 Eh lui Eh era al sinistro No non l'ho visto neanch'io Però l'ho sentito Strono 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 Bello sai che cos'è Questo gioco è stato così pronto Perché nel momento in cui ti serviva la leva Tu l'hai attivata E lui Riavvia il generatore C'è stato il sovraccarico Sì Quindi là non andarci Ma non andarci là Eh ci devo andare No Proviamo a fare una cosa Fai ma No dobbiamo andare là Eh Ok Invece di andare lì che ti fa scattare la trappola Perché è una trappola quella Sì Ok Non abbiamo più carburante Sì Per farlo andare a lanciapia Allora Proviamo a fare una cosa Saliamo nel corridoio Questa è la principale orizzontale Poi andiamo giù nel verticale Sì Perché qui c'è un altro passaggio a sud E vediamo di entrare lì E al massimo muori e lo rifacciamo Perché l'ho visto Ok 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 Vediamo che O poi magari non è così Ah ecco Però secondo me è così Speriamo che sia così perché Al massimo lo ricarichiamo Questa è da dove siamo entrati Abbiamo tagliato la torta Ioni Emergenza Raggiungere il punto di vacuazione stabilito E attendere il guardiano androide di emergenza Come si vede bene Ah Alien Il gioco per anziani cardiopatici Ah ah No Aspetta Allora lì è crollato tutto Ma lì c'è una cosa Perché ha munizioni bot gun Robo di Guarda in alto Destra Ok Ok Batterie per la torcia Limite raggiunto E va Guarda Sì Alien è veramente No dobbiamo andare lì Dobbiamo andare lì per forza Eh oh Scusami eh Provate Ah ma è carina ci sta Giusto Cosa c'è sto rumore Non lo capiscono in chi Eh la meanche secondo me Se sta seguendo fa Tchaca 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 Dai colpi contro Grazie a tutti.